La Fiat sta bene, la D del Lingotto Marchionne ostenta fiducia a poche ore dall'incontro a Palazzo Chigi sul futuro italiano dell'azienda. Il Premier Monti si limita ad una gelida battuta, oggi ho tanti incontri. Durissimo il leader della FIOM Landini, porre out-out è un ricatto alla nazione. Dopo della valle anche Carlo De Benedetti va all'attacco. Fabbrica Italia era uno specchietto per le allodole. Puntare sul lavoro per tornare a crescere è l'obiettivo del governo ribadito dal ministro Fornero e dal sottosegretario Catricalà, ottimista sull'incontro con i vertici Fiat e cancellieri avverte, l'occupazione può diventare un problema di ordine pubblico. Sono fatti gravissimi, così il presidente della Corte dei Conti, Gian Paolino, sullo scandalo alla Regione Lazio. Dai verbali dell'ex capogruppo del PDL, Franco Fiorito, emerge la portata del saccheggio ai fondi pubblici. 30 milioni di euro sottratti in due anni. Indagini anche sulle spese dei gruppi consigliari alla Regione Campania. Matteo Renzi in corsa per le primarie ribadisce, se perdiamo daremo una mano al vincitore ed insiste, ho fiducia in Bersani, le regole non saranno cambiate. Il segretario del PD si sfila dalla foto di Vasto di un anno fa, mentre Vendolo e Di Pietro chiedono che venga rovesciata l'agenda Monti. Dopo il felice ritorno in Champions, la Juventus senza Pirlo si rituffa nel campionato ed affronta il Chievo, sua bestia nera. Nell'altro anticipo la Fiorentina a caccia di punti a Parma. E buongiorno a tutti voi dal Telegiornale della Sette, benvenuti a questa edizione del Telegiornale, un'edizione che vede in primissimo piano il grande e attesissimo incontro di oggi a Palazzo Chigi, l'incontro fra l'amministratore delegato di casa Fiat Sergio Marchion e il Premier Monti. La vigilia ostenta ottimismo Marchion. Poco più di due ore e poi, a Palazzo Chigi, l'amministratore delegato ed il Presidente di Fiat Sergio Marchion e John Elkan si confronteranno con il Premier Mario Monti e con i ministri Conrado Passere ed Elsa Fornero sul futuro del gruppo in Italia. La Fiat sta bene, ha detto questa mattina da Torino Marchion, che ha cominciato la sua giornata di fuoco inaugurando il nuovo campus dell'Università del Capoluogo Piemontese. Il Governo cercherà di capire quanto Fiat realmente stia bene e quale possa essere il destino degli stabilimenti italiani del gruppo, dopo l'annunciato abbandono del progetto Fabbrica Italia. Particolarmente acceso si preannuncia il confronto tra l'AD del Lingotto ed il Ministro dello Sviluppo Economico dopo le schermaglie di ieri. Dovrà spiegarci perché non riesce a guadagnare in Europa e in Italia, a differenza dei suoi concorrenti. Aveva detto Passena nel corso della sua visita in Brasile, dove l'azienda torinese macina utili. Al Ministro non sarà sfuggito che il Governo brasiliano è particolarmente attento alle problematiche dell'industria dell'auto, la replica piccata di Marchionne. Una replica che probabilmente fa parte della sua strategia perché, se è vero che il numero uno di Fiat sa bene di non poter puntare a finanziamenti stile Brasile, che si configurerebbero come aiuti di Stato che l'Europa vieta, potrebbe però porre il tema di nuovi sgravi fiscali per rimettere in moto la produzione. Nel corso dell'incontro ribadirà il proprio impegno per l'Italia, tuttavia Marchionne snocciolerà anche i numeri nerissimi del mercato dell'auto, che impediscono a suo avviso di effettuare investimenti. Di conseguenza ricorderà che per salvare gli stabilimenti nel nostro paese sarà necessario, almeno fino al 2014, un massiccio ricorso agli ammortizzatori sociali, in primis la cassa integrazione, sia quella straordinaria, sia, quando questa scadrà come a Pomigliano, a Mirafiori e alla ex Bertone, a quella in deroga, quella cioè finanziata dal governo, che dal canto suo chiederà a Fiat chiarezza sui suoi piani e ribadirà la sua linea. Nessuna intromissione nelle politiche di investimento di un'azienda privata, ma il governo potrebbe farsi promotore di un vertice europeo sulla crisi dell'industria automobilistica. Queste le carte sul tavolo di un incontro che tutti attendono con un misto di speranza ed apprezzione, ma anche pessimismo, almeno stando alle parole del segretario generale della UIL, Luigi Angeletti. Temo, ha detto, che il vertice di oggi non produca risultati concreti. Gli fa eco il numero uno della FIOM, Maurizio Landini, che attacca. Non vorrei che il risultato dell'incontro fosse semplicemente che si danno un po' di soldi per far cassa integrazione per altri due o tre anni. Vorrei che questo si evitasse. Poi aggiunge, quando si dice, o fate come dico io o me ne vado, quello non è solo un ricatto ai lavoratori, ma all'intero paese. Il presidente della regione Piemonte, Roberto Cota, incalza Marchionne. Mi aspetto che nell'incontro di oggi indichi tempi e modi degli investimenti. E dopo della valle, un altro big dell'imprenditoria italiana, Carlo De Benedetti, attacca Marchionne. Fabbrica Italia era uno specchietto per le allodole, una favola. De Benedetti, ricordiamo, a metà degli anni 70 fu per quattro mesi amministratore delegato della Fiat. A poche ore dall'incontro tra Monti e Marchionne, il ministro Fornero sottolinea che alcuni chiarimenti sono necessari per ridare fiducia alla gente. Il sottosegretario Catricala, a sua volta, mostra ottimismo e stampa i toni. È vero che l'Italia ha bisogno della Fiat, ma anche che la Fiat ha bisogno dell'Italia. Per questo credo che ci metteremo d'accordo. Parola di Antonio Catricala. Azzarda ottimismo il sottosegretario e la presidenza del Consiglio a poche ore dal cruciale incontro di Monti con i vertici del gruppo automobilistico. E lo stesso fa il ministro del lavoro Fornero, seppure con qualche sfumatura in più. Alcuni chiarimenti sono necessari per restituire fiducia alle persone, dice la responsabile del welfare. Quindi bisogna sapere quali sono le prospettive. Chiaro il messaggio a Marchionne, il governo vuole impegni concreti. Più in generale, continua la Fornero, tutta l'Europa deve mettere la crisi dell'occupazione al centro della sua politica e il nostro paese farà la sua parte. Certo, gli ultimi dati non sono rassicuranti perché se nelle stime del 2012 il tasso di disoccupazione in Italia si attesta al 10,8%, secondo gli analisti del governo il 2013 andrà anche peggio. Si perderanno altri posti di lavoro e il tasso schizzerà all'11,4%. Una prospettiva niente affatto incoraggiante, tanto che il ministro dell'interno cancellieri avverte sicuramente il problema del lavoro può diventare un problema di ordine pubblico. E parlando di fiat, di lavoro e di crescita questa mattina all'Università Luis di Roma, Catrica l'ha detto è vero che l'economia non cresce ma il governo sarà comunque in grado di raggiungere il pareggio di bilancio il prossimo anno. Sulla eventualità di un Montibis, dopo aver chiarito che per adesso l'esecutivo tecnico si prepara a lasciare il posto ad un nuovo governo eletto, ha aggiunto. Se il paese avrà bisogno noi non potremmo tirarci indietro, ma io credo che sarà impossibile in assoluto che si possa ripresentare una situazione come quella che si è presentata quando siamo stati nominati solo ed esclusivamente tecnici. Dunque mai dire mai, anche se ora bisogna pensare al varo del decreto crescita. Monti vorrebbe arrivare al Consiglio europeo del 18 ottobre prossimo con in mano un'intesa con sindacati e imprenditori. Il confronto tra le parti sociali su come recuperare la produttività riprende la prossima settimana e i tempi sono strettissimi. E questa che sta per concludersi è stata una segnata come settimana dallo scandalo dei fondi PDL che ha travolto la regione Lazio, che ha messo in grande difficoltà la governatrice Polverini. Ebbene, a questo punto ci si interroga la luce di questa spina nel fianco del PDL, ma anche delle altre spine nel fianco del partito, sulla tenuta dei consensi. Il momento della verità sarà lunedì, quando Alessandra Ghisleri, la sondaggista di fiducia del Cavaliere, fornirà le prime rilevazioni dopo lo scandalo Lazio. E il dato si annuncia assai penalizzante per un PDL che negli ultimi tempi aveva dato segnali di ripresa. Per questo l'umore di Berlusconi è descritto come nerissimo. Il danno di immagine per il partito, provocato dalle spese allegre dei membri del Consiglio regionale del Lazio, si unisce al timore delle nuove inchieste che cominciano ad affacciarsi su altre regioni guidate dal centrodestra, Campania e Calabria, senza contare che la Lombardia di Formigoni è da tempo nel mirino della magistratura. Un effetto domino che rischia di rendere inutile ogni dibattito sull'eventualità del ritorno in campo del Cavaliere e di influire anche sulle scelte in materia di legge elettorale. Sulle preferenze, che Berlusconi non ha mai amato, c'era una convergenza con l'Udc, ma la scelta alla luce dell'inchiesta romana, Batman Fiorito, ha fatto incetta di voti personali, rischia di trasformarsi in un boomerang e di dare ulteriore linfa alla pianta dell'antipolitica. L'unico dato positivo per il PDL sono le mancate dimissioni della Polverini, che avrebbero aperto possibili nuove voragini, a cominciare dal voto anticipato nel Lazio con sconfitta praticamente certa. Ma il caso ha rilanciato lo scontro in atto da mesi tra le due anime del partito, quella ex AN e quella ex Forza Italia, che secondo un big come l'ex ministro Frattini non si sono mai amalgamate nel partito comune. Dai vertici concitati di questi, la separazione consensuale è stata esorcizzata, ma resta come un'ozione possibile, dipenderà dalla legge elettorale. E a completare un quadro già nerissimo, arriva la secca condanna del cardinale vicario di Roma, Agostino Vallini. Gli scandali ed abusi di denaro pubblico sono intollerabili. A sinistra intanto si cerca di guadagnare campo, con Vendola e Di Pietro che cercano di rilanciare la ormai nota foto di Vasto, e con Bersani che però non accetta i paletti posti dai leader IDVSL. Intanto il PD prosegue il cammino verso le sue primarie, con Matteo Renzi in particolare, che rilancia il problema delle regole. Di Pietro vorrebbe riavvicinarsi a Bersani, ma il segretario del PD respinge l'avanza al mittente. Di passi indietro ne ho visti molti nell'ultimo anno, fin troppi quasi da sparire dall'orizzonte. Un anno dopo dunque Bersani si defila dalla foto di Vasto, mentre Vendola continua ad affiancarsi al leader dell'IDV. Ma dal palco al Bruzzese è difficile delineare il futuro prossimo di quel patto dei progressisti su cui lavora Bersani. Per Vendola e Di Pietro la foto di un anno fa non va infatti stracciata, ma se i due chiedono che venga rovesciata l'agenda Monti, Bersani a distanza respinge anche quest'ipotesi. L'agenda Monti va solo rettificata. Altra spina nel fianco, la presenza di Casini, una foto senza IDV e con Casini è da atti impuri, dichiara Di Pietro. Con l'Udc siamo incompatibili, continua a ripetere il governatore della Puglia. Se la foto di Vasto dunque si è rimpicciolita, le primarie del PD si affollano. Tra outsider e volti noti per ora siamo otto candidati. Matteo Renzi con il suo tour in camper oggi è approdato a Varese, dove batte il cuore della Lega. Noi partecipiamo per vincere, basta con la sindrome dei bobbisti giamaicani, ovvero l'importante è partecipare, che ha sempre avuto il centro-sinistra. Mario Monti ha ridato prestigio all'Italia, ma non speranza governare, non è fare la lista della spesa. E a proposito delle primarie, il sindaco di Firenze ribadisce, vinca il migliore, noi se perdiamo daremo una mano a chi ha vinto, perché questo dicono le regole delle primarie. Ma Renzi insiste su un punto. Spero e penso che sarà normale per tutti riconoscere che le regole che nelle primarie andavano bene nel 2005, le regole quando ha vinto Prodi, le regole che andavano bene nel 2007 quando ha vinto Veltroni, le regole che andavano bene nel 2009 quando ha vinto Bersani, o nei tanti comuni e nelle regioni dove ha vinto Vendola, dove ho vinto io, in tanti altri luoghi, andavano sempre bene ed erano sempre le stesse regole. Ecco, non vorrete mica adesso che si cambi le regole perché qualcuno ha paura di perdere. No, io fiducia in Bersani, le regole non saranno cambiate, saranno le regole che il PD ha sempre utilizzato. Lo scandalo dei fondi del PDL alla Regione Lazio. L'ex capogruppo Franco Fiorito, accusato di peculato, assicura a sua volta che restituirà parte dei soldi sottratti. La Corte dei Conti a sua volta parla di fatti gravissimi. Il bilancio della Regione Lazio lievitava di mese in mese. Dall'iniziale milione di euro destinato ai gruppi dalla precedente Giunta Marrazzo passa già nel settembre del 2010 a 5 milioni e 400 mila euro. Un fiume di denaro che aumenterà nel giro di due anni a colpi di successive delibere fino ad arrivare a 30 milioni, secondo la denuncia di Repubblica. Ora è tutto al vaglio della Guardia di Finanza. Gli atti della Giunta sono arrivati anche alla Corte dei Conti. dopo che il Movimento a difesa dei cittadini ha diffidato la Presidente Polverini accusandola di aver provocato un enorme danno erariale. Sono fatti gravissimi, non pensavamo si potesse giù. ...della spesa e dell'indebitamento anche rispetto a... Appena eletta Renata Polverini, la cassa diventa monifica grazie ad una motivazione semplice. L'integrazione è resa necessaria dal cambio di legislatura. Poi le delibere, tutte firmate dal Presidente Abruzzese, si susseguono a distanza di pochi mesi l'una dall'altra e le correzioni sono costantemente al rialzo. Variazioni in virtù del fabbisogno, segnala una nota, senza dettagliarne le ragioni. Un'abitudine consolidata nel Consiglio regionale del Lazio. Ai membri del gruppo PDL, per avere fondi pubblici, bastava scrivere su un foglietto richiedo e ricevo per attività sul territorio. Et voilà, si aprivano i cordoni della borsa. Le richieste dei consiglieri le ha consegnate ai PM Franco Fiorito, l'ex capogruppo PDL, accusato di peculato dalla Procura di Roma. Secondo l'accusa, avrebbe sottratto dal conto del partito oltre un milione di euro, facendolo confluire nei suoi depositi personali. E la Procura indaga anche sulla scomparsa di altri 8 milioni di euro, volatilizzatisi dal conto PDL. Restituirà 400 mila euro, ha promesso Fiorito, nel tentativo di alleggerire la sua posizione. Al Consiglio del Lazio non c'era alcun tipo di controllo, ha detto ai magistrati. C'era chi, come il consigliere Antonio Cicchetti, presentava rimborsi per migliaia di euro in libri antichi o chi, più prosaicamente, per regali. 13 mila euro sono costati alla regione i cesti pasquali di Annalisa Daguanno. Un vizietto diffuso anche in altre regioni italiane. A Napoli, al Consiglio regionale, è arrivata la finanza. Hanno acquisito gli atti e chiesto una relazione dettagliata sulla ripartizione dei fondi destinati ai gruppi. Anche qui, pur lontani dai fiumi di denaro del Lazio, l'intreccio sospetto è traspese, rimborsi e conti personali dei consiglieri. Per quanto riguarda un'altra inchiesta, i magistrati che indagano sui fondi neri alla Fondazione Maugeri starebbero valutando l'ipotesi di stralciare la posizione del presidente della regione Lombardia, Formigoni. Più tempo per le indagini. E' questo il motivo per cui i magistrati di Milano potrebbero chiedere di stralciare la posizione del governatore della Lombardia, Roberto Formigoni, indagato per corruzione aggravata nell'ambito dell'inchiesta sui presunti fondi neri della Fondazione Maugeri. Servono ulteriori riscontri. Altri interrogatori. Separare la posizione di Formigoni da quella di Pierangelo D'Acon, Antonio Simone, ex assessore della sanità negli anni 90, entrambi attualmente in carcere e degli altri cinque indagati per i quali i PM stanno per procedere con la richiesta di rito immediato significa poter approfondire e cercare nuove conferme alle dichiarazioni che nei mesi scorsi sono finite nei verbali dei protagonisti della vicenda. L'inchiesta, che riguarda anche il numero uno del Pirellone, è nota. I magistrati sospettano che una serie di benefit pagati dal mediatore d'acqua al governatore, viaggi in luoghi esotici, vacanze, cene, gite in barca, il tutto quantificato in 8,5 milioni di euro fossero elargizioni in cambio di favori alla Fondazione Maugeri. Un complicato sistema di soldi pubblici finiti grazie a delibere regionali su misura alla clinica e che poi sarebbero stati in parte dirottati all'estero sui conti del faccendiere per creare fondi neri con i quali oliare i meccanismi della sanità lombarda. Pesanti le frasi che fa mettere a verbale Umberto Maugeri il 15 maggio scorso davanti ai magistrati l'ex presidente della Fondazione Ammette eravamo costretti a pagare le cifre che ci hanno chiesto Daco e Simone pagavamo perché in quel momento eravamo particolarmente vulnerabili nel senso che il nostro equilibrio finanziario dipendeva dai provvedimenti discrezionali della regione Lombardia. Mi fate notare, conclude Maugeri rivolgendosi ai magistrati, che anche il San Raffaele e il Fatebene Fratelli pagavano il pizzo a Daco e devo dire che effettivamente si tratta di un vero e proprio sistema. Sia Maugeri sia Costantino Passerino ex direttore amministrativo della Fondazione parlano di Daco come di un faccendiere disinvolto in grado di arrivare a Formigoni anche sfruttando le vacanze costosissime per cui il Celeste non avrebbe tirato fuori un euro. La replica di Formigoni arriva oggi attraverso Twitter. Il governatore della Lombardia attacca Repubblica. Pravda, unico vero tribunale messo sentenza. Formigoni colpevole. Bene, ora avrete tempo per occuparvi affari sanitari di De Benedetti. Il Papa invoca un rinnovato e forte impegno politico e dei cattolici anche per fare fronte alla crisi globalizzata. Il richiamo è stato fatto da Benedetto XVI durante l'udienza dei capi di Stato e di Governo e dei leader della Internazionale Democristiana guidati dal Presidente Casini. Il Papa parla di un fondamento etico la cui assenza in campo economico ha contribuito di fatto a creare la crisi finanziaria. Ricerca del bene comune, tutela della dignità della persona sono secondo il Papa i principi centrali cui ispirarsi la crisi può essere un'occasione dice il Pontefice di discernimento e di nuova progettualità. Andiamo adesso negli Stati Uniti dove l'attenzione è concentrata sulla campagna elettorale per la Casa Bianca. Il candidato repubblicano Mitt Romney che negli ultimi giorni ha accumulato numerose GAF e ha fatto salire conseguentemente i sondaggi di Barack Obama dopo essersi rifiutato per mesi ha finalmente reso pubblica la sua dichiarazione dei redditi relativa al 2011. Per quell'anno Romney ha pagato il 14,1% di tasse ovvero 1936 milioni di dollari su un reddito accumulato di 13.697 milioni. Il candidato repubblicano che ha già pubblicato la dichiarazione dei redditi per il 2010 ha ceduto così alle richieste del partito repubblicano che da mesi gli chiedeva maggiore trasparenza sulle tasse che lo accusano di avere conti all'estero per evadere il fisco. Caos in Libia con una nuova ondata di scontri a Benghazi. Migliaia ieri sono scesi in piazza contro le milizie armate islamiche. Ci sono vittime e ci sono feriti. Benghazi, una notte di battaglia e il rischio di una nuova guerra civile libica pronta a riesplodere proprio in Cirenaica a cuore della rivolta che un anno fa ha abbattuto il regime di Gheddafi. A migliaia ieri sono scesi in piazza ma stavolta contro le milizie armate islamiche per ricordare l'ambasciatore Chris Stevens ucciso l'11 settembre durante l'attacco al consolato americano. Una manifestazione appoggiata dalle autorità locali contrarie all'estremismo religioso e a quei gruppi armati che ancora si rifiutano di consegnare le armi. Il film Blasfemo su Maometto è stato solo un pretesto per attaccare la sede diplomatica statunitense ha detto il presidente del nuovo Parlamento di Tripoli El Magarief che avverte oggi in Libia ci sono gruppi che vogliono destabilizzare il paese con il terrore e così la protesta la notte scorsa si è trasformata in un vero e proprio assalto armato al quartier generale della formazione salafita Ansar al-Sharia accusata di fomentare l'ondata di violenze anti-americane Centinaia di manifestanti hanno fatto irruzione nella sede dei miliziani che sono fuggiti senza scontri diretti ma la situazione poi è sfuggita di mano alle forze governative e gli attacchi si sono rivolti anche contro le sedi degli altri gruppi islamici schierati però col nuovo governo al termine della nottata il bilancio è stato di quattro morti una quarantina i feriti ma ieri nel venerdì di preghiera il mondo musulmano ha manifestato ovunque la sua rabbia contro il film americano che insulta Maometto e le vignette satiriche sull'islam pubblicate da un settimanale francese in Pakistan agli incidenti più gravi 26 persone sono morte negli scontri con la polizia a Karachi Peshawar Lahore Islamabad dove l'assalto al quartiere diplomatico è stato respinto dalle forze antisommossa violenze anche in Bangladesh e in Indonesia mentre in Francia dove erano forti timori per una reazione cruenta alla pubblicazione satirica le manifestazioni filo-islamiche si sono svolte senza problemi d'ordine pubblico siamo ora allo sport e dopo la settimana dedicata alle coppe europee torna adesso il campionato oggi due anticipi alle 18 Parma-Fiorentina stasera la Juventus ospita il Chievo è una Juventus col morale alto quella che si rituffa nel campionato dopo il felice ritorno in Champions League e che si trova a convivere con nuove realtà come il turnover e il calo fisiologico di alcuni uomini Conte e Carrera hanno deciso di far riposare Andrea Pirlo il regista rifiata dopo nove mesi e al suo posto ci sarà Pogba il Chievo e la bestia nera della Juventus lo dicono i numeri ma lo dice soprattutto Massimo Carrera molto soddisfatto perché la Juve è tornata aggressiva e cattiva come lo scorso anno ma anche preoccupato perché tutti vogliono passare alla storia come quelli che hanno interrotto la lunghissima imbattibilità bianconera Contro il Chievo la qualità non basta serve anche quantità forza da provinciale giusto approccio mentale spuntano due nomi nuovi nel gruppo Quagliarella l'eroe di Stanford Bridge e Bentner finora oggetto misterioso per quanto riguarda Giovinco non è tempo di processi né tanto meno di bocciature il periodo è troppo delicato con la serie terribile di gare Chievo Fiorentina Roma e Shakhtar in Champions l'altro anticipo di oggi alle 18 mette di fronte Parma e Fiorentina con i Viola prossimi avversari proprio dei bianconeri nel big match di martedì prossimo al Franchi a Firenze è tornata la febbre di un tempo biglietti esauriti e Montella che fatica a portare l'attenzione e la concentrazione sulla gara del Tardini l'allenatore Viola cerca i primi punti in trasferta Donadoni in riscatto dopo la sconfitta di Napoli domani in campo le altre capolista il Napoli in trasferta Catania la Lazio nel posticipo all'Olimpico col Genoa momento difficile per i bianco celesti che devono gestire situazioni delicate da una parte l'inchiesta UEFA per i presunti cori razzisti dei tifosi presenti a Londra per la partita di Europa League col Tottenham dall'altra le vicende giudiziarie che coinvolgono i giocatori Mauri e Zauri preoccupazioni diverse sono invece quelle del tecnico del Milan Allegri ieri la pace stile reality tv voluta da Galliani con Pippo Inzaghi dopo la lite di mercoledì scorso domani la difficile trasferta Udini che con ogni probabilità deciderà la sua permanenza sulla panchina rossonera il mondiale superbike fa tappa in Portogallo alle 16 in diretta da Portimao seguiremo la Superpole ma adesso per tutte le notizie per tutte le anticipazioni ci colleghiamo subito con Fabrizio Calia che è lì per noi buongiorno Fabrizio buongiorno dall'autonomo portoghese di Portimao sono in corso proprio adesso in questo momento le prove libere che però hanno grande importanza in vista di questa Superpole cui accennavi tu in questo momento l'inglese della Kawasaki Sykes al miglior tempo davanti a Melandri uno dei duellanti per il titolo mondiale poi l'irlandese Laverti Haslam l'italiano Giuliano e poi con il quinto miglior tempo c'è Max Biaggi Max Biaggi che questa mattina è stato letteralmente incontenibile ha ottenuto il miglior tempo addirittura salendo dalla decima alla prima posizione e rifilando 197 millesimi di vantaggio appunto nei confronti di Melandri quindi è stata una dimostrazione di forza piuttosto potente del pilota romano andiamola a sentire subito dopo la conclusione delle prove ufficiali di stamattina Ho fatto solo il mio lavoro cercando di migliorarmi con una condizione di pista abbastanza ok però non sarà sicuramente semplice per la vita la durata delle gomme come spesso accade su questo tracciato i due piloti Biaggi e Melandri che si disputano il titolo mondiale sono stati al centro di un episodio chiamiamolo da Moviola Melandri era intento in una staccata è andato lungo non ha fatto la giusta frenata e stava proprio per tamponare Biaggi per pochi centimetri non c'è stato un incidente poi ha spiegato Melandri si è trattato soltanto di un problema al cambio Melandri lì mi è rimasta in folle forse nel giro più sbagliato quasi quasi buttavo giù anche Max e sembrava quasi volessi farla apposta ma purtroppo quando la moto rimane in folle non ti fermi e sono andato dritto tante volte in quella cura in questo fine settimana e è tutto l'anno che stiamo cercando di capire perché la griglia di partenza verrà definita quindi nella Super Bowl che trasmetteremo in diretta alle ore 15.50 sulla 7 a te grazie Calia noi andiamo avanti con il telegiornale restiamo a parlare di sport e comincia la stagione di basket oggi con la Supercoppa che si gioca a Rimini fra Siena e Cantù che rinnovano la sfida vinta dai Toscani lo scorso anno la partita in diretta alle 19 sulla 7 e per chi dovesse perdersi questo incontro l'appuntamento con la replica è stasera sulla 7 alle 22.30 ci fermiamo un attimo per la pubblicità ben ritrovati in diretta siamo ai saluti ma prima di lasciarvi vi ricordo che siamo su Twitter ecco in sovrimpressione l'indirizzo ed anche come sempre su internet potete quindi essere sempre aggiornati in tempo reale con le nostre notizie la prossima edizione del TG alle ore 20 preceduta qualche minuto prima dall'anteprima grazie per l'attenzione e buona giornata buon fine settimana grazie a tutti grazie a tutti